Ma magari se l'è a posto l'ultimo così, vedrò questi che si fanno, questi guai ne piacciono a morire, ma anche i gattini, abbiamo anche i gattini, no no no, noi siamo accompagnatori, io sono il nipote, io sono il nipote, ciao, che bella, stupendi, stupendi davvero. Sì, sì, perché gli è bellissimi, gli è bellissimi davvero, mi piace sul legno così, ti prezzo. Ecco la mostra, ma un tocco di maia finale, lo scec, lo scec, lo scec, lo scec, lo scec, lo scec, lo scec. Tu, e altri ancora, et voilà, un commento finale? E' finita la partita. Bene. Luisa, allora un commento? Sono molto belli, noi invitiamo l'artista a ritornare a Casso, perché veramente ha immortalato degli scorci che sono veramente vivi, bellissimi i colori che ho utilizzato, e quindi per noi sarà un piacere di averlo qui con un attimino di più calma e magari in un contesto anche un pochino più allargato. Perfetto, e poi la gente può anche dormire venendo qui. Sì, c'è un bel breakfast, dalla Teresa. E dalla Teresa, vedete, ha super ottimi prezzi. Sì, sì, e quindi vale anche la pena proprio viverli questi posti, visto che ancora si mantengono autentici. Buono, ecco qualcuno si sta rubando i quadri. Ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto, spengo e ti aiuto. Non di niente. Ciulelle, le montagne, Dolomiti del Friuli. Non di niente, ovviamente arriva il proprietario e mi prende. E' la zia Linda. E' la zia Linda che collabora, ciao ciao. Ciao.